25 marzo. Sul mio tavolo ci sono dei fiori. Carini. Un regalo di quella brava donna della mia padrona di casa, dato che oggi è il mio compleanno. Ma mi serve il tavolo libero, esposto di lato i fiori e anche la lettera dei miei anziani genitori. Mia madre mi ha scritto per il tuo 34esimo compleanno, caro ragazzo, ti auguro il massimo bene. Il Signore Onnipotente ti concede a salute, fortuna e contentezza. E mio padre ha scritto per il tuo 34esimo compleanno, caro figliolo, ti auguro ogni bene. Il Signore Onnipotente ti concede a fortuna, contentezza e salute. Della fortuna si può sempre aver bisogno, penso. E quanto alla salute, ringraziando Dio non ti manca. Tocco ferro. Ma contento? No, contento, non posso dire di esserlo. Ma in fin dei conti nessuno lo è. Mi metto a tavolino, apro una boccetta di inchiostro rosso, mi impiastriccio le dita e mi arrabbio. Sarebbe ora di inventare un inchiostro con cui non ci si possa impiastricciare le dita. No, contento, non lo sono davvero. Non pensare queste stupidate, mi impongo. Hai un lavoro sicuro, con il diritto alla pensione, e al giorno d'oggi, quando nessuno può essere certo che l'indomani il mondo giri ancora, è una vera e propria fortuna. Quanta gente si leccherebbe tutte le dita, se fosse al tuo posto. La percentuale di quelli che riescono a diventare di ruolo è così bassa. Ringraziai Dio di appartenere al corpo docente di un liceo cittadino e di poter invecchiare e rincitrullire, senza preoccupazioni economiche. Magari camperai cent'anni e forse diventerai anche l'uomo più vecchio del tuo paese. Allora, il giorno del tuo compleanno, la tua foto finirà su una rivista, con la didascalia, ha ancora una grande lucidità di spirito. E in aggiunta a tutto questo la pensione. Rifletti. E non bestemmia. Non bestemmio. E mi metto al lavoro. Benvenute e benvenuti. Io sono Andrea, del Circolo dei narratori di Bergamo, e il sabato condivido ad alta voce dei testi letterari. In questo caso sto proponendo una breve serie di testi che hanno come filo conduttore l'arrivo a scuola, declinato in vari modi. Abbiamo visto nelle scorse settimane il passaggio dalla scuola privata a quella pubblica, poi l'inizio della prima elementare, e adesso cambiamo completamente punto di vista. Non più prospettive di studenti, ma la prospettiva di un insegnante, un insegnante che, come abbiamo sentito, è appena entrato di ruolo. Il testo che stiamo leggendo è «Gioventù senza Dio» di Oden von Horwath, romanzo del 1937. Qui davanti ho 26 quaderni azzurri. Ieri, durante l'ora di geografia, 26 ragazzini sui 14 anni hanno dovuto svolgere un tema. E già, io insegno storia e geografia. Fuori splende ancora il sole, si deve star bene al parco. Ma il mio dovere mi impone. Correggo i temi e annoto nella mia rubrica chi se la cava e chi no. Il titolo del tema imposto dell'autorità scolastica è il seguente. Perché dobbiamo possedere delle colonie? Già, perché? Stiamo un po' a vedere. Il primo in ordine alfabetico comincia con la B. Si chiama Bauer, nome di battesimo Franz. In questa classe non c'è nessuno al cui nome inizi con A. In compenso ce ne sono subito 5 con la B. Una stranezza questa. Tanti con la B su un totale di 26 alunni, ma due B sono gemelli. Ecco spiegata la stranezza. Scorro automaticamente l'ordine alfabetico nella rubrica e constato che la B è quasi raggiunta solo dalla S. Certo 4 iniziano con la S. Tre con la M. Mentre le iniziali E, G, L, R contano ciascuna due nomi. Un nome ciascuna le lettere H, N, T, V, W, Z. Mentre nessun nome inizia per A. C, D, I, O, P, Q, V, X, Y. Allora, Franz Bauer, perché abbiamo bisogno di colonie? Noi abbiamo bisogno delle colonie, scrive Bauer, perché abbiamo bisogno di molte materie prime. Infatti, senza materie prime non potremmo fare funzionare la nostra qualificata industria, secondo quanto vale e merita, e questo avrebbe come grave conseguenza il fatto che l'operaio del nostro paese resterebbe nuovamente senza lavoro. Molto giusto, caro Bauer, ma non si tratta solo degli operai. Ma invece, Bauer? Bensì, si tratta della popolazione nel suo complesso. Infatti, anche l'operaio fa parte in ultima analisi del popolo. E questa è senza ombra di dubbio, in ultima analisi, una scoperta sensazionale, mi viene da pensare, e improvvisamente mi salta di nuovo agli occhi la frequenza con la quale al giorno d'oggi vecchie formule sapienziali vengono servite come verità nuove di zecca. Ma non è sempre stato così? Non lo so. So soltanto che adesso mi tocca leggere 26 compiti, che partendo da premesse viziate, traggono conseguenze sbagliate. Come sarebbe bello se viziato e sbagliato si eliminassero a vicenda. Ma non è così. Procedono a braccetto, cantando vuoti slogan. Come dipendente statale mi guarderò bene dall'esprimere anche la più piccola critica nei confronti di questi bei ritornelli, pur rammaricandosene che può fare il singolo contro tutti. Può solo arrabbiarsi nel suo intimo. E io non voglio più arrabbiarmi. Correggi, svelto, non volevi andare al cinema? Che cosa scrive N? Tutti i negri sono subdoli, vigliacchi e fannulloni. Troppo stupida, perciò la cancello questa frase. Resto già per scrivere a margine in rosso, generalizzazione priva di senso? Ma mi fermo. Aspetta, non ho forse già sentito questa frase negli ultimi tempi? Già, ma dove? Giusto, rintronava dalla radio al ristorante, mi ha quasi rovinato l'appetito. Perciò lascio stare la frase così com'è. Dal momento che quello che viene detto alla radio, nessun insegnante può cancellare su un quaderno. E mentre proseguo nella lettura, la radio continua a ronzarmi nelle orecchie. Mi sbiglia, urla, abbaia il suo messaggio, tuba, minaccia e i giornali lo stampano e i ragazzini lo ripetono nei loro temi. Ora ho finito la lettera T e passo alla Z. Ma dov'è la W? Forse ho perduto un quaderno? No, W ieri era malato. Domenica lo stadio si è preso la polmonite. Già suo padre me l'ha debitamente comunicato con un biglietto. Povero W, perché vai allo stadio quando cade una gelida pioggia torrenziale? In realtà penso potresti porre questa domanda anche a te stesso. C'eri anche tu allo stadio Domenica. E sei rimasto buono buono fino al fischio di chiusura. Anche se il gioco praticato dalle due squadre non era affatto di buon livello, anzi, era proprio nuioso. Dunque perché sei rimasto e con te trentamila spettatori paganti. Già, perché? Quando l'ala destra dribbla il mediano sinistro e spinge verso il centro. Quando il centroattacco infila la palla nel varco e il portiere si tuffa. Quando la mezzala sinistra scarica la sua difesa e impone gioco di ali. Quando il difensore salva sulla linea della porta. Quando un giocatore si comporta scorrettamente mentre un altro fa un gesto cavalleresco. Quando l'arbitro è in gamba o non vale niente o è parziale o imparziale. Per lo spettatore non esiste nient'altro al mondo che il calcio. Sia che splenda il sole o che piova o nevichi. Allora dimentica tutto. Che cos'è questo tutto? Non posso fare a meno di sorridere. I negri probabilmente. Piove. Il mattino dopo arrivato al ginnasio. Mentre mi avviavo su per le scale verso la sala insegnanti. Mi giunse dal secondo piano. Un rumore confuso. Mi affrettai a salire. Evi di cinque ragazzi ed esattamente E. G. R. H. T. che stavano picchiando un compagno e precisamente F. Cosa vi salta in mente? Gli sgridai. Se dovete proprio darvele di santa ragione come i ragazzini delle elementari. Fate almeno il santo piacere di farlo uno contro uno. Cinque contro uno è una vera vigliacata. Mi guardavano senza capirmi. Anche F sul quale gli altri si erano accaniti. Il suo colletto era strappato. Che cosa vi ha fatto? Aggiunsi. Ma gli eroi non volevano far uscire la voce. E nemmeno la vittima dell'aggressione. Solo a fatica riuscì a capire che non era stato F a fare qualcosa agli altri cinque. Al contrario i cinque gli avevano rubato il panino imburrato. E non per mangiarlo ma solo perché lui ne restasse senza. Gli hanno buttato il panino dalla finestra giù il cortile. Guardo giù. Eccolo là. Sul salciato grigio continua a piovere e il panino luccica. Magari penso i cinque non hanno la merenda e da loro fastidio che F abbia un panino. Ma che? Tutti hanno i loro. Anzi G ne ha addirittura due. Torno a chiedere perché dunque avete agito così? Non lo sanno nemmeno loro. Mi stanno davanti con una smorfia sul viso. Certo l'uomo deve proprio essere malvagio. Sta scritto già nella Bibbia. Quando cessò di piovere e le acque del diluvio universale cominciarono a ritirarsi, Dio disse non voglio più punire la terra per colpa dell'uomo, poiché sin dalla prima giovinezza. L'animo umano ha intenzioni malvagie. Chissà se Dio ha mantenuto la sua premessa, non lo so ancora, ma ora non chiedo più perché abbiano gettato il panino in cortile. Mi informò solamente se abbiano mai sentito parlare di una legge che esiste sin dalla notte dei tempi, da mille e mille anni, da quando è iniziata la convivenza umana. Una legge non scritta. Affermatasi sempre più chiaramente una legge bella, da veri uomini. Se dovete battervi, che sia solo uno contro uno. Mantenete sempre lo spirito cavalleresco. Poi mi rivolgo di nuovo ai cinque e chiedo non vi vergognate. Non si vergognano. Sto parlando un'altra lingua. Mi guardano con tanto d'occhi. Solo chi le ha prese sorride. Mi sta prendendo in giro. Chiudete la finestra, dico allora, altrimenti piove dentro. La chiudono. Che razza di generazione diventerà mai questa? Dura o solo rosa? Non dico più una parola e vado nella sala insegnanti. Mi fermo un attimo sulla scala e tendo l'orecchio per sentire se hanno ripreso darsele. No. Tutto è tranquillo. Sono semplicemente sorpresi. Tanto per cominciare, devo confessarvi che mi trema un po' la voce a dire la parola con la N. Magari una volta ci facciamo una bella discussione su questo, ma è chiaro che questo disagio l'autore l'ha voluto, perché evidentemente qui il razzismo è il punto. Siamo nella Germania nazista, anche se l'anno esatto non è precisato. Fa il compleanno il 25 marzo, come mia cugina, però non si sa il 25 marzo di che anno. Ma è un altro l'aspetto su cui vorrei richiamare l'attenzione. È il primo brano, dicevamo, tra tutti quelli che leggiamo, in cui vediamo il punto di vista dell'insegnante. È non un anziano solone, paludato, ma un giovane neoassulto. È la prima cosa che dobbiamo notare nel giovane è questo estenuante senso di rassegnazione, di sconfitta, la sensazione di combattere una battaglia persa, anzi, il tentativo di non combattere nemmeno, che non ne vale la pena. Registriamo il fatto e andiamo avanti. I plebei ricchi. Dalle 10 alle 11 avevo lezione di geografia. Durante l'ora dovevo consegnare i compiti sulla questione coloniale corretti ieri, come ho accennato sul loro contenuto a norma di regolamento, non si può minimamente intervenire. Perciò restituendo i lavori corretti feci solo alcune osservazioni puramente formali, relative all'ospedizione, all'ortografia. A uno dei B, dissi perciò che non doveva continuare a scrivere oltre il margine sinistro. A R, che i paragrafi dovevano essere più lunghi. A Z che coloni e non si scrive con la CH. Solo quando restituì il quaderno a N non potevi trattenermi dall'osservare, tu scrivi che noi bianchi siamo superiori ai negri per cultura e civiltà. E questo potrebbe anche essere vero, ma non puoi scrivere che non spetta ai negri decidere sulla loro stessa vita. Anche i negri sono esseri umani. Mi fissò per un attimo, poi sul suo viso passò un'espressione sgradevole. O forse mi ero sbagliato, presse il suo quaderno, con il bel voto assegnatogli, fece un rispettoso inchino e tornò al suo posto. Ben presto dovetti rendermi conto che non mi ero sbagliato. Puntualmente il giorno dopo, durante la mia ora di ricevimento, si presentò il padre di Enne. Una volta alla settimana dovevo ricevere i genitori per mantenere un contatto con loro, venivano a informarsi sui progressi dei loro figli e a chiedere consiglio su ogni genere di problemi educativi per lo più di nessuna importanza. Si trattava di bravi borghesi, impiegati statali, ufficiali, commercianti, non c'era nessun operaio tra loro. Qualche genitore mi dava la sensazione di pensarla come me sui contenuti dei temi del suo rampollo, ma ci limitavamo a guardarci, a sorridere. E poi parlavamo del tempo. In genere questi padri erano più anziani di me. Uno era addirittura un vecchio. Il più giovane ha copiuto ventotto anni appena due settimane fa. A diciassette anni aveva sedotto la figlia di un industriale, un giovanotto elegante. Quando viene da me arriva a bordo della sua vettura sportiva. La moglie resta in macchina e io posso vederla dall'alto. Il suo cappello, le braccia, le gambe. Nient'altro ma mi piace. Potresti avere anche tu un figlio, penso. Ma mi guardo bene dal mettere al mondo un figlio. Solo perché vengo ammazzato in qualche guerra? Davanti a me c'era ora il padre di Enne. Il suo passo denotava sicurezza di sé. I suoi occhi guardavano dritto nei miei. Sono il padre di Otto Enne. Piacere di conoscerla, signor Enne risposi. Mi inchinai come si conviene e lo invitai ad accomodarsi. Ma egli non si sedette. Signor professore, attaccò. La mia presenza qui è dovuta a un fatto estremamente grave, che potrebbe avere conseguenze molto pesanti. Ieri pomeriggio mio figlio Otto mi ha comunicato con profondo sdegno che lei, signor professore, ha fatto un'asserzione semplicemente inaudita. Io? Sì, lei. Quando? In occasione dell'ora di geografia di ieri. Gli alunni avevano svolto un componimento sulla questione coloniale. Ed in questo contesto lei ha detto al mio Otto? Anche i negri sono esseri umani. Capisce che cosa intendo dire? No. Ed era vero che non capivo. Mi lanciò uno sguardo indagatore. Dio mio quanto deve essere stupido quest'uomo, pensai. La mia presenza qui ricominciò lentamente, sottolineando le parole, è dovuta al fatto che io, sin dai tempi della più lontana giovinezza, ho lottato per la giustizia. Le chiedo perciò, è stata effettivamente pronunciata da parte sua, in questa forma, in questo contesto, questa indegna asserzione. Sì, dissi. Non potei fare meno di sorridere. La sua presenza qui non sarebbe dunque senza fondamento. Dolente, mi interrompe lui bruscamente. Non ho in animo di scherzare. È evidente che non le ha ancora chiaro il significato di una simile asserzione sui negri. Si tratta di sabotaggio contro la patria. Oh, ma me lei non la dà a intendere. So fin troppo bene in quale modo, suddolo e perfido, voi cerchiate di insinuare il veleno delle vostre fondoni umanitarie nelle innocenti anime infantili. Adesso era veramente troppo. Mi permette, scattai, sta scritto anche nella Bibbia che tutti gli uomini sono esseri umani. Quando la Bibbia è stata scritta, non c'erano ancora colonie, nel senso che intendiamo oggi. Sentenziò con incrollabile sicurezza il maestro Fornaio. Un libro come la Bibbia va letto in senso lato, figurato, altrimenti non lo si capisce. Signore, crede forse che Adamo ed Eva siano vissuti realmente, oppure solo in senso figurato. E allora non se la caverà appellandosi al buon Dio. Ci penserò io. Lei non penserà proprio a niente, dissi. E lo accompagnai alla porta, in realtà era come se lo avessi buttato fuori. Ci vedremo a Filippi, mi gridò. E scomparve. Due giorni dopo ero a Filippi. Il presidente mi aveva fatto chiamare. Senta, mi disse. È arrivata una comunicazione dell'autorità ispettiva. Un certo maestro Fornaio N. Si è lamentato di lei per certe asserzioni che lei avrebbe fatto bene. So come vanno queste cose e come vengono costruite queste accuse. Non c'è bisogno che mi spieghi niente. Tuttavia, caro collega, è mio dovere farle presente che simili fatti non devono ripetersi. Lei dimentica la circolare riservata 5679U33. Noi dobbiamo preservare i giovani da tutto ciò che in qualche modo potrebbe mettere in pericolo le loro future capacità militari. E ciò significa che dobbiamo educarli moralmente alla guerra. Punto. Guardai il preside. Egli sorride. E indovinò i miei pensieri. Poi si alzò e si mise a camminare su e giù. È un bel uomo in età, pensai. La sorprende, disse improvvisamente. E io suoni la diana della guerra. E ne ha ben motivo. Sta pensando, guarda, che razza di uomo non molti anni fa firmava infiammate dichiarazioni pacifiste. E oggi, oggi prepara alla battaglia. So che lei agisce così solo perché vi è costretto. Cercai di calmarlo. Ascoltò con attenzione, mi si fermò davanti e mi scrutò. Giovanotto disse, il suo voto era serio. Tenga presente una cosa. Non c'è alcuna costrizione. Potrei, infatti, contraddire lo spirito del tempo e farmi mettere in galera da un qualunque maestro fornaio. potrei andarmene. Ma non voglio andarmene. No, signore, non voglio. Voglio raggiungere invece i limiti di età per raggiungere il massimo della pensione. Che animo nobile, pensai. Lei mi considera un cinico. Prosegui guardandomi ora in modo molto paterno. Oh no, tutti noi che abbiamo lottato per raggiungere più nobili sponde dell'umanità, abbiamo dimenticato una cosa. Il tempo. Il tempo nel quale viviamo, caro collega, che ne ha già viste tante come me, un po' alla volta afferra l'essenza delle cose. Fai presto tu a parlare, pensai ancora una volta? Tu almeno hai vissuto i begli anni dell'anteguerra, ma io? Solo nell'ultimo anno di guerra io ho amato per la prima volta e non chiedere cosa. Noi viviamo in un mondo plebeo, disse scrollando tristemente il capo. Pensi a Roma antica. 287 avanti Cristo. La lotta fra i patrizi e i plebei non era ancora terminata, ma i plebei si erano già impossessati di importanti posizioni nello Stato. Mi permetta, signor preside, o sai ribattere? Per quanto non so io? Da noi non sono i plebei poveri che comandano ma solo e unicamente il denaro. Mi guardò nuovamente con tanto d'occhi e sorridendo di sott'acchi. È vero, ma le do subito un bel cinque in storia, signor professore di storia. Infatti lei dimentica completamente che esistevano anche i plebei ricchi. Ricorda? Me ne ricordavo, naturalmente. I plebei ricchi. Abbandonarono il popolo e assieme ai patrizi che si avviavano alla decadenza. Formarono la nuova aristocrazia burocratica. I cosiddetti optimatas. Non se ne dimentichi di nuovo. No. Una battaglia persa, dicevamo. Una battaglia da non combattere nemmeno, se possibile. E invece in un modo o nell'altro, per quanto tu la eviti, la battaglia avviene lo stesso. È lei che viene a cercare te. E allora come sopravvivere a questo senso di sconfitta? Il preside una cosa giusta la dice. Il tempo. Lui la dice in senso opportunistico. È decisamente un personaggio negativo. Parla del adeguarsi ai tempi. Tra l'altro, nella traduzione inglese, questo romanzo ha un titolo completamente diverso. Si chiama L'età dei pesci, proprio nel senso di questa grande epoca cosmica, astrologica. Dicevo, per come la racconta il preside, si tratta dell'ennesimo calcolo, del compromesso con il conformismo. Ma il ragionamento si può rovesciare. È l'intera epoca che va ripensata per vincere una piccola battaglia locale. Nessuno ovviamente pretende che il singolo sconfigga il governo nazista da solo, o il sistema dei media, o il colonialismo, tutto quello che gli gira intorno. Si tratta invece di riprendere la capacità di capovolgere lo sguardo, di non vedere te stesso come l'aristocrazia che non conta più, e gli alunni come plebei. Le altre volte vi avevo detto che stavamo scegliendo un tema marginale, che non era mai quello l'argomento del romanzo. Stavolta invece il romanzo parla proprio di questo. E non vado avanti a raccontare per non svelarvi il finale, ma vi invito a leggerlo. Si tratta di un tema che credo ci tocca molto oggi. Quello che ci viene continuamente proposto come la nuova normalità fa schifo. E abbiamo un po' tutte e tutti la sensazione di non poterci far nulla, di dover abituarci a sgomitare per sopravvivere all'interno di questa normalità nuova, senza poter progettare in alcun modo i tempi che si profilano. Credo che ogni testo che ci mette davanti possibili mosse davanti a questo scacco, meriti di essere avvicinato di questi tempi. Odon von Horwath, Gioventù senza Dio. L'edizione che io è Garzanti 1998, ma ne esistono anche di più recenti. Se ne avete voglia ci vediamo sabato prossimo. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.